Salve ragazzi, allora, rieccoci allora oggi ho visto la partita della Juve contro il Tottenham dell'International Cup è stata una bella Juve, bella Juve veramente hanno giocato titolari Pjanic, Hernanes, Dybala, Pereira e Benatia e finché ci sono stati loro in campo la partita praticamente non ha avuto storia la Juventus ha praticamente distrutto il Tottenham dal punto di vista del gioco anche perché il Tottenham ha fatto delle sciocchezze difensive clamorose dove Pereira è stato molto bravo sul primo gol a recuperare la palla poi la data Dybala e Dybala di sinistro l'ha messa dentro poi diciamo che la Juve comunque ha tentato sempre di attaccare Dybala ha sfiorato il 2-0 dove ha caricato un gran sinistro centrale ma fortissimo dove il portiere a mio avviso è stato molto bravo a metterlo in calcio d'angolo e proprio da quel calcio d'angolo viene messa la palla in mezzo una meschia, la difesa spazza via ma non bene prende la palla Pjanic, cross morbido e Benatia di testa fa un gol pazzesco, pazzesco ragazzi, pazzesco perché da un'incornata pazzesca e toglie la ragnatela alla traversa veramente un gol fantastico di Benatia veramente veramente molto bravo Benatia molto bravo anche Pjanic veramente bravissimi tutti e due e quindi 2-0 la partita sembrava praticamente finita e su 2-0 la Juve ha avuto la possibilità di fare anche il 3-0 con Dybala su un errore difensivo ma non c'è riuscita poi nel secondo tempo ci sono stati dei cambi giocava anche a Samoa ci sono stati dei cambi è uscito Dybala è uscito Samoa è uscito Pjanic sono usciti praticamente titolarissimi sono entrate delle riserve e diciamo che la Juve ha allentato un pochino la presa e ha rischiato anche di andare a supplementare perché dalla sciocchezza difensiva di Hernanes loro recuperavano palla e la Mela con un gran sinistro fa un bel gol del 2-1 poi all'ultimo abbiamo rischiato abbiamo rischiato su una bella azione del Tottenham dove Neto è stato molto bravo a respingere verso l'ottantottesimo abbiamo rischiato e poi niente ragazzi la partita è finita 2-1 per noi la nostra prima vittoria stagionale un buon test abbiamo fatto un buon test finché c'erano i titolari dopo sono entrati i ragazzi della primavera ed è normale che abbiamo un pochino allentato la presa però finché c'erano i titolari veramente una Juve schiacciante una Juve dominante nel primo tempo senza praticamente storia e quindi bene bene molto soddisfatto è ufficiale oggi è arrivata l'ufficialità che Iguain è il nuovo giocatore della Juve bene e ovviamente abbiamo preso anche PH niente ragazzi io volevo fare questo commento veloce della Juve di questa amichevole sabato faremo l'ultimo amichevole dell'International Cup penso e penso non lo so poi se com'è andrà a finire non so se va a ponte adesso questa International Cup e e niente ragazzi io penso che che questa Juve possa fare molto bene quest'anno perché oggi si è comportata veramente molto bene molto bene e e quando fai giocare i titolari secondo me ce n'è poco per tutti scusate quando fai giocare i titolari secondo me ce n'è poco per tutti perché la Juve oggi ha nel primo tempo ha stradominato praticamente non c'è stata partita non c'è stata storia loro continuavano a fare gli errori difensivi e noi continuavamo ad attaccare e creare occasioni siamo stati veramente molto bravi io devo fare i complimenti ovviamente a Marotta e a Paratici per il mercato che hanno fatto anche se li ho già fatti devo rifarglieli anche se ho un'impressione ragazzi che sotto sotto secondo me ci sono sempre tanti consigli di Luciano secondo me c'è sempre lo zampino di Luciano sotto questi acquisti niente da togliere la bravura di Paratici e Marotta però qualche consiglio secondo me Luciano lo ha dato quindi ragazzi questo è tutto una bella Juve un applauso alla Juve perché ho visto dei giocatori nuovi che sono arrivati da poco tipo per la Tia Pjanic che si sono veramente ambientati molto bene e come al solito Pereira molto bravo e Dybala ragazzi è Dybala ragazzi ci vediamo sabato con il commento dell'altra partita della Juve e come al solito ragazzi sempre forse a Juve ciao ragazzi